Partita in 400 piani con Renzi, Alexander Aceti e Matteo Fusari. Pistola Giussano, 49,78, c'è anche Vladimir Aceti che è uno dei grandi protagonisti, ce l'auguriamo in un prossimo futuro. Un altro Aceti, qui abbiamo invece penso sia fratello Alexander che ha 49,78. Eccolo qua, direttora di arrivo, questa coppia è Alexander Aceti e va a chiudere il 49,01.